E ciao a tutti ragazzi, io sono Epitox e bentornati in un mio video del canale. Oggi vi farò vedere come connettervi con i vostri amici su... da telefono. Perché un video? No. No, 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 niente video, niente video. L'immagine del Creeper è questo. Ok, allora, intanto sono partito con l'immagine del Creeper perché non sapevo da dove partire. La ominizia mi sembrava un po' brutta come partenza. Allora, intanto dovete avere Minecraft per connettervi con gli amici Minecraft. Poi dovete avere anche un'applicazione che trovate sul Play Store e carica. Ok, ragazzi scusate se vedete un po' rallentato tutto ma sto cercando di caricare tre video nel canale. Cioè si può notare qua caricamento un video su tre quindi... Allora, Xbox... Dovete cercare così Xbox Live. E appena si caricherà vedrete questo. Xbox è questa applicazione qua. Esattamente questa. Voi la installerete. Adesso, se volete, la elimino e vi faccio vedere esattamente i passaggi. Allora, questo. Qua. E apriti, dai. Oh, ok. Entrate qua su Xbox. Allora, accedete. Ho creato un nuovo account. Vi crede da queste cose. Allora, io accedo perché il mio account ce l'ho già. Ora, metto le credenziali, poi vi faccio vedere il resto. Ok, dopo ore che aspettavo praticamente. È riuscito ad accendermi. Ragazzi, non è un problema che succeda a tutti. A voi andrà veloce, solo che, come vi ho detto, sto caricando tre video. Quindi. Allora, a me dice bentornato i Pirox, semplicemente perché ho già fatto. Se no, vi dirà, non so, inizia, inizia una configurazione. Qua schiacciate avanti, qua schiacciate X, poi X, ok. E vi capiterà qua. Qui avrete, come vedete, non so, i vostri amici. Ma non è qua che si cercheranno gli amici. Infatti, questa applicazione vi serve semplicemente per poi riuscire a connettervi agli amici. Adesso vi faccio vedere. Allora, dovete tornare dal menu. Andare su Minecraft, adesso che avete l'applicazione. Poi. Vabbè, accedete, come sempre. Ah, ragazzi, se non avete Minecraft perché non lo volete pagare, io farò un altro video per vedere come avere Minecraft gratis da telefono. Allora, perché non mi carica la mia skin? Non me ne frega. Allora, poi, dovete andare qua su Amici, dopo che avete Instagram e Xbox Live. E ricordate, cosa molto importante, dovete essere sempre collegati sia uno che l'altro al Wi-Fi. Perché se no, non vi trova l'amico. È così che funziona Minecraft. Anche se qualche dispositivo vi fa hotspot e quel dispositivo che fa hotspot ha i giga. L'importante è che avete l'icona del Wi-Fi attiva. Allora, qua, come vedete, ho aggiungito un amico. Inserite il GameTag, che è il nome dell'utente. C'è questo qua, sopra la mia skin. Non riesco a parlare. Che bello. Stavo dicendo. Epirox2586 è il mio nome. I numeri dopo, ragazzi, ve li dà praticamente in automatico. Non so perché, da telefono così. Ma comunque, andate qua su Amici. Il vostro amico vi dice il GameTag. Io, tipo, non so, metto il mio. Vediamo se mi trovo. E qua sotto vi dice se l'ha trovato oppure no. Ecco, il mio l'ha trovato. Qua potreste mettere, tipo, aggiungi amico. Se c'è scritto blocca, vuol dire che l'avete già inviata l'amicizia. E poi, su Xbox Live, andate su Xbox Live, qua. Qui andate su Notifiche, provate a riaggiornare, comunque, cose del genere. E vi arriverà un messaggio da qua, mi sembra. Ti ha aggiunto, come amico, per esempio, non so. DGV, che non so chi sia. E qui, in teoria, dove c'è adesso invia un messaggio, mettete aggiungi come amico. Perché lui vi ha aggiunto come amico, ma voi no. Quindi dovete andare lì e schiacciare il suo aggiungi amico. E poi, semplicemente, giocherete a Minecraft. Cioè, in modo parecchio semplice. Andate qua su Gioca. Uno dei due entra in un mondo. L'altro qua su Amici vedrà a un certo punto il mondo col nome dell'amico. E solo attenti a mettere texture, pack o pacchetti e risorse. Perché a volte, se no, non vi fa vedere online. E niente. Ah, ovviamente, se non vedete comunque online l'amico, dovete andare qua su Xbox. Andate su uno degli amici. Io metto, per esempio, Tarmac Sphinx, che sono sempre io, ma da Xbox. Qua, andate sui tre puntini. Schiacciate su Invita al Gruppo. Beh, qua consentite il microfono e tutto. Ok, sì, va bene. E qua, appena l'altro accetterà l'invito, lasciateli il gruppo. Lasciate l'applicazione aperta. E qui vi mettete a giocare a Minecraft. In teoria, così il compagno vi vedrà. Se non funziona, se non siete in gruppo. Perfetto. Io vi ho detto tutto per questo video. Ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao! Ciao!